Alle sue truppe ammassate all'est, Hitler lancia il fatale proclama. L'ora dell'azione è giunta, soldati. Da voi e dalle vostre armi dipende il destino della Germania per un millennio. Combattete, annientate senza pietà, chi si oppone al diritto del popolo germanico. E questi uomini, che sembrano di ferro, sono pronti a morire per il dittatore del Reich.